ragazzi Alexandra sta di la adesso vedete ragazzi volete vedere Ale? sta lì in cucina andiamo andiamo a vedere eccola 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 qua andiamo a mettere ecco 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 la nostra puzzosetta Ale Ale non toccare la fotocamera stai bene ragazzi ragazzi la fotocamera è spanita ciao ciao sto giocando con la fiestrella e ci vediamo ciao ciao